Siamo in regata, per cui non andrete da nessuna parte, è inutile che ci provate Davide, capito? Sì, guarda, tornatevi nel poco, è meglio, guarda, tu mi ha semassato, devi un paio di cura. Oh, eh, Sandro! Che spettacolo, Davide! Quando te lo dico io, spingi quadrato! Dai, mi raccomando! Sì, sì, oh, è inutile che ci provate, eh, oggi! No, la bacca! Per noi è un match race, quindi, ti ho detto tutto. Buona regata!